L'ho definito un mercato particolare, sicuramente un mercato molto fantasioso, un mercato in qualche modo con nomi particolari, un mercato giovane, ci aspettavamo tutt'altro effettivamente tutti noi, ci aspettavamo un mercato in qualche modo che potesse andare a puntellare, che potesse andare a migliorare la rosa fin da subito, quindi nel presente. Ma il Milan, la dirigenza dell'area tecnica rossonera, la proprietà in questa fase dell'anno, in questa sessione di mercato, ha deciso di optare per un mercato fantasioso, un mercato giovane, un mercato, possiamo dire, un po' ricco di enigmi, un mercato che punta su giocatori semi sconosciuti, quasi delle scommesse. Questo video, inizialmente, sarà un focus per quanto riguarda la difesa, poi daremo due news di calcio mercato della giornata di oggi. Leggiamo questo articolo, che abbiamo scritto noi di rubrica rossonera, e poi lo commentiamo insieme. In questi ultimi giorni di calcio mercato, il Milan potrebbe affondare il colpo per un difensore centrale. Casale, Viti, Gatti e Stevé, sarà uno di loro a vestire rosso-nero, prima, possiamo dire, primo argomento. Quindi questi quattro nomi, Casale, Viti, Gatti e Stevé. Ovviamente sono quattro nomi che non scaldano l'entusiasmo dei tifosi, quattro giovani di buona prospettiva, dà il grande futuro. E ovviamente possono, in qualche modo, essere paragonati a un acquisto come l'Azetic, l'attaccante serbo preso al Milan. Quindi dei giocatori semi sconosciuti, ma dà il grande potenziale. Andiamo avanti nell'articolo. Sarà uno di loro, quindi, a vestire rosso-nero, due classe 2002, Viti ed Stevé, e due classe 98, Casale e Gatti. Due di piede destro, Casale e Gatti, e due di piede sinistro, Viti ed Stevé. Anche qui, mi fermo un attimo, una riflessione. Il Milan andrà alla ricerca di un centrale dal piede destro o da un centrale dal piede sinistro? Perché è importante? Questo, soprattutto in virtù della prossima stagione, dove Milan vorrà puntare forte, in maniera concreta, su Botman. Botman è un sinistro, quindi, se in qualche modo ragioniamo come dirigente della tecnica rosso-nero, potrebbe arrivare un difensore giovane e dal piede destro. Casale è tecnico, dinamico, dotato di un grande fisico, bravo nel gioco aereo e nell'impostazione. Finora in questa agione ha collezionato complessivamente 23 presenze, giocando 1537 minuti e servito un assist. Faccio un inciso, una notizia di calcio-mercato su Casale, c'è fortissima anche la Lazio. Lazio che sembra in testa dal giocatore, anche se sembrava che potesse prendere il posto di Luis Felipe, ma mi dicono che Luis Felipe potrebbe arrivare il rinnovo di contratto. Viti, giocatore dell'Empoli, ha ottime dote tecniche e fisiche, è difficile superare l'uno contro uno, è molto bravo, abile di testa, bravo in contrasto, in marcatura e nel leggere la situazione del gioco. Molto forte, quindi, nell'anticipo. Ha un buon tempismo negli interventi, ama impostare l'azione da dietro, spesso con il sinistro lancia i compagni in profondità e è bravo, ha coraggio anche nel dribbling. Finora, in questa stagione con l'Empoli, nonostante sia giovanissimo, ricordo un 2002, ha collezionato complessivamente 13 presenze e giocato 950 minuti. Gatti, invece, è molto forte fisicamente, grazie al suo passato a centro-lampista, ottima visione di gioco, è molto bravo nelle tour difensive ed è forte di testa. È partito dalla promozione piemontese e ora è arrivato in Serie B. Questo percorso, ovviamente, gli ha permesso di costruirsi una forte personalità e la costante voglia di avere grandi ambizioni. Ha un buon piede, ma in fase di impostazione ha sicuramente anche margini di miglioramento. Finora, in questa stagione, ha collezionato complessivamente 19 presenze, giocato 1676 minuti, realizzando tre reti e fornito un assist, però ha giocato in Serie B. Esteve è fisico e ha qualità. Finora, in questa stagione, col Montpellier ha totalizzato 13 presenze e giocato 948 minuti. Nella prossima sessione di calcio e mercato, e così chiudiamo l'articolo scritto e poi faremo la riflessione insieme, se non dovesse rinnovare Romagnoli, il Milan potrebbe fare un investimento grande, un investimento forte. Si parla di Bremer, si parla di Botman, vedremo, vedremo. Però la scelta del piede, destro o sinistro, sarà un indicatore, secondo me, di mercato, anche delle strategie future. Vedremo, vedremo. Parlo di questa cosa, del mercato, perché con l'acquisto di Lazetich, il Milan ha usato gli slot disponibili per registrare calciatori extra comunitari. Quindi il Milan dovrà per forza, per quanto riguarda il rinforzo della difesa, andare a tesserare un giocatore europeo. A meno che, dico a meno che, il Milan possa cedere che sì, arrivare Renato Sanchez che è comunitario e quindi così facendo potrebbe liberare uno slot da extra comunitario. Vedremo cosa succederà. Una cosa è certa, il Milan farà un investimento importante nel mercato estivo. Ora, la strategia sembra essere cambiata, sembra essere il focus, sembra essere un giovane di prospettiva da inserire al Milan e di farlo crescere da qui al prossimo giugno. E poi valutare l'acquisto di un top, anche considerata la partenza molto probabile a parametro zero, di Alessio Romagnoli. Vedremo, vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Notizia di calcio mercato di oggi, Castieco sta parlando l'entourage con Sampdoria, Sampdoria che vuole portare Castieco a Genoa, in Liguria. E il Milan appunto sta trattando con la Sampdoria l'uscita dell'esterno spagnolo. Quindi anche su questo fronte vi terremo, come sempre, aggiornati. Fatemi sapere cosa ne pensate della mossa, possiamo dire, della strategia di calcio mercato. E come sempre, se è piaciuto questo video vi chiedete di mettermi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera.